18 ottobre si celebra la 14esima giornata europea contro la tratta degli esseri umani. Siamo presenti a Trento e a Rovereto con una bancarella per sensibilizzare su questo tema, con le storie delle persone che abbiamo incontrato in questi anni, provenienti un pochino da tutti i continenti. Siamo presenti anche in Piazza Dante a Trento con un'installazione che consiste in alcune figure distese a terra con sempre le storie delle persone che abbiamo incontrato e poi abbiamo avuto l'opportunità sia a Trento che a Rovereto di appendere degli striscioni in posti strategici per rendere visibile anche alla cittadinanza il più possibile questo tema che è tanto importante ma a volte anche poco conosciuto. In Trentino siamo presenti con il progetto ALBA che è un progetto che si sviluppa a livello regionale e quindi anche sul territorio della provincia di Bolzano e con questo progetto siamo attivi con un'unità di strada che si occupa di attività di primo contatto, con un'accoglienza per le donne e le persone, insomma diciamo che il nostro principale target sono donne, siamo presenti con un'accoglienza per le donne che decidono di uscire da questo sistema e poi con un'attività di emersione e uno sportello attraverso cui raccogliamo un pochino i bisogni delle persone che si rivolgono a noi e cerchiamo anche di dare un sostegno per uscire da questo sistema anche attraverso l'inserimento lavorativo. Per chi avesse bisogno di informazioni o avesse bisogno di un aiuto anche concreto rispetto ai temi dello sfruttamento, grave sfruttamento tratta, esiste un numero verde che attivo 24 ore su 24, 800 290 290 e sicuramente è un inizio per iniziare a trovare una risposta a dei bisogni così importanti.